Ben trovati, nuova puntata di Le Fonti Pocket News, come sapete spesso dedicata a un filone particolare in questo periodo di emergenza da Covid-19. Il filone qual è? Quello di dare voce ai diretti protagonisti dei vari settori che più di altri sono interessati dalle restrizioni proprio a causa della pandemia in corso. Naturalmente tutti siamo stati colpiti, ogni giorno noi sulle fonti tv cerchiamo di dare delle stime, delle previsioni rispetto a quella che è la perdita dell'economia del nostro paese, ma è indiscusso e in dubbio il fatto che ci siano dei lavori, dei mestieri che più di altri sono stati soggetti appunto alle restrizioni di cui accennavo poco fa e che ancora oggi brancolano nel buio più di altri. E allora noi diamo voce a loro attraverso questo spazio, anzi se anche voi volete raccontarci quello che vi è successo contattateci, contattate anche me personalmente, io ci tengo molto e lo sapete a poter parlare di tutto questo. Lo vedete dal nostro titolo di cosa parleremo in questa puntata? Di palestre con un grido d'allarme su tutti, ora non esistiamo più, perché chi sperava, anche chi insomma va in palestra e conduce attività fisica, sperava di sentirsi dire bene da domani possono riaprire anche centri sportivi, palestre, piscine, invece purtroppo non è così, almeno fino al 15 gennaio del 2021 rimarranno chiuse, anche perché questo è segnato proprio nero su bianco sul nuovo DPCM firmato dal governo. Si tratta di un vero colpo, di un duro colpo per il settore, io vi leggo qualche numero e poi naturalmente do voce a un diretto protagonista, per il 2020 si parla di una perdita di oltre il 70% del fatturato, è una cifra enorme, per il 2021 sempre ammesso che usciremo dall'emergenza Covid-19 e che quindi queste attività torneranno a esercitare danni per il 50-60%, quindi ci rendiamo conto che sono ancora stime assolutamente provvisorie, perché a oggi una data di apertura ancora non c'è. Peraltro era da aspettarsi comunque che si sarebbe andati verso questa direzione, si sarebbe presa questa direzione perché ripetutamente il ministro Spadafora ha detto che a oggi non ci sarebbero le condizioni sanitarie per poter consentire la ripresa di queste attività. Io voglio subito salutare Stefano Brandolin, che è collegato con noi, personal trainer, presidente di Neomotus, associazione sportiva dilettantistica e coach. Stefano, ciao, benvenuto da noi. Ciao Manuela, grazie dell'invito. Ben trovato. Allora Stefano, io prima partirei da questo titolo che abbiamo voluto dare, palestre, il grido d'allarme, ora non esistiamo più. È così? È realmente così o ho esagerato? Non hai esagerato, realmente è così. Tieni presente che sul nostro territorio in Italia ci sono più di 6.500 club, anche impianti termali che riguardano sempre il settore del fitness, del wellness, completamente fermi praticamente ormai da otto mesi. E questo aspetto è da sottolineare perché se teniamo in considerazione che ci sono più di 6 milioni di utenti iscritti ai nostri centri fitness, questo aspetto ti fa capire quanto sia fermo e impossibilitato il settore ad avere una crescita o anche un minimo guadagno in questo momento. Perché, visto che abbiamo dato questo numero, questa percentuale, il 70% di perita del fatturato nel 2020 è presto detto, insomma, anche chi non ama fare i conti. Voi siete rimasti chiusi praticamente, non dico tutto l'anno perché le restrizioni sono cominciate a marzo, però voi avete chiuso, poi avete riaperto in estate e poi avete chiuso nuovamente, insomma, con la seconda ondata. E a oggi siete ancora, mi duole dirlo, ma è così, tra le poche attività che non vedono una data di riapertura. È quello poi il problema maggiore, no? Stefano, è così? Praticamente è stato un anno perso? Allora, la problematica maggiore è il discorso della possibilità di esercitare un servizio alla persona, cioè quello che nel nostro settore è la cosa più importante. L'erogazione del nostro servizio tiene in piedi 250 mila posti di lavoro che attualmente sono a rischio o senza nessun tipo di possibilità di fare nessun tipo di guadagno, di ottenere nessun tipo di guadagno. Questa è la cosa molto grave. Teniamo presente che rispetto al 2019, se vogliamo un dato economico finanziario c'è stata una vera perdita di 10 miliardi di Euro rispetto al 2019 e questo aspetto è da sottolineare quanto comunque un settore fortemente in crescita come era quello del fitness del 2019 si sia completamente estinto. Perché tutto quello che riguardava ha un indotto a livello di numeri, a livello di conti, a livello economico di crescita fino al 2019 con il fatto che siamo stati prima a essere stati bloccati, attualmente non sappiamo ancora neanche quando ripartire, tutto quello che numericamente ti ho detto è andato in fumo. Ecco Stefano, per esempio, giusto per dare anche un riferimento ai nostri telespettatori, perché poi i conti rispetto a questa seconda chiusura verranno fatti poi, ma ci basiamo su quello che ha significato la prima chiusura, il lockdown, quella insomma che ha interessato la primavera. Sono stati sentiti, ascoltati professionisti come te, quindi proprietari di palestre eccetera eccetera, che hanno dichiarato la seguente cosa. Il 22% dopo due mesi di chiusura ha dichiarato di avere autonomia per un altro mese, dopodiché giù le serrande. In due mesi il 61% ha ritenuto di non avere le forze economiche per superare la crisi. Il 77% dei club ha detto potrei non farcela in tre mesi. Al quarto mese di stop il rischio, attenzione, è che oltre l'82% dei club non sopravviva. Solo il 3,4% dei club potrebbe avere le risorse economiche per resistere a cinque mesi di chiusura. Ti ritrovi in questi numeri Stefano? Allora, ma bisogna tenere in considerazione questo aspetto. Il mercato in Italia, l'offerta di fitness è divisa in piccoli e medi club, con solamente una piccola incidenza di grandi catene. Quindi l'aspetto, chiamiamolo così, familiare a livello di società o associazioni a livello di fitness rimane un aspetto molto rilevante. Quindi che cosa vuol dire? La maggior parte dei centri fitness o termali attualmente aperti e attualmente attivi sono piccoli centri con un'incapacità di rimanere aperti se non lavorano. Le uniche possibilità che si possono avere per rimanere aperti è avere alle spalle delle grosse catene multinazionali dove, nonostante le difficoltà, si possono comunque rialzare e quindi riaprire in un secondo momento, anche se comunque con diverse difficoltà. Quindi questi aspetti sono da tenere in considerazione perché è un conto avere dei piccoli centri di qualità, quali siamo noi come Neomotus, ma con altri migliaia di centri di grande qualità che sono in tutto il nostro territorio nazionale, ma questi centri non sono stati né tutelati e quindi questi aspetti nei mesi vedranno i centri di morire piano piano e non poter più riaprire perché le spese di affitto, le varie spese che ci sono all'interno del mantenimento attivo di un centro non sono state tutelate assolutamente in nessun modo dal nostro governo. Ecco adesso ci arriviamo anche a quel punto Stefano, io volevo dare un altro riferimento perché poi è vero che il titolo che abbiamo dato a questo spazio è molto secco, non esistiamo più perché abbiamo voluto dare questo titolo, perché l'Italia con l'8% del mercato europeo, dopo Germania 20%, Inghilterra 19% e Francia 9% era il quarto posto in Europa con oltre 5,5 milioni di persone iscritte in palestra e con un mercato annuale di oltre 2,3 miliardi di euro. Quindi io lo dico anche se lo darei per scontato ma insomma purtroppo non è sempre così, non è che stiamo parlando di qualcosa di frivolo, cioè purtroppo quando si parla di palestra, attività fisica, centri estetici, parrucchieri, mettiamoci dentro tantissimi altri mestieri, si pensa che vabbè ma tanto possiamo farne a meno, a parte che è tutto relativo perché riguarda comunque anche il benessere, ma noi ci dobbiamo basare per approfondire questi temi su numeri come quelli che abbiamo elencato. Io lo specifico Stefano, so che voglio dire non aggiungerà nient'altro, ripeto lo darei per scontato ma è sempre meglio specificarlo. Allora ti chiedo un'altra cosa, dopo arriviamo proprio anche alle tutele perché bisogna capire anche cos'è avvenuto dopo le chiusure, le restrizioni. Io poco fa in apertura di questa puntata ho detto che il ministro Spadafora, così come il governo in generale, cosa ci hanno detto? Che fino a oggi, fino a questo momento, non ci sono le condizioni sanitarie per poter consentire la ripresa di queste attività, come dire che in palestra non si è sicuri. Cosa rispondi a questo? Oltretutto ricordiamo che come tutte le attività avete dovuto anche sostenere delle spese quando avete riaperto proprio di sanificazione, di messa in sicurezza proprio degli ambienti, no? Esatto. Allora la possibilità che ci è stata data di riapertura è stata una possibilità presa al volo da tutte le strutture, da tutti quelli che sono i club in Italia. La spesa ovviamente dipende molto dalla grandezza delle strutture, quindi dalla grandezza stessa dei club e dalla quantità di persone iscritte, quindi dall'utenza. Si parla di spese che variano da un minimo di 2 mila Euro fino a 25 mila Euro solamente per mettersi a norma su quanto c'era stato chiesto per poter quindi esercitare e lavorare. Questo aspetto fra settembre e ottobre di quest'anno, quindi i mesi appena passati, non sono stati tenuti assolutamente in considerazione perché nel nostro caso è come se noi abbiamo fatto una spesa senza dall'altra parte avere la possibilità comunque di lavorare come altri settori. Questo aspetto è un aspetto che ci sta distruggendo completamente perché non vedo forti differenze tra quello che è mettersi a posto in regola con tutti quelli che sono i dispositivi di sicurezza anti-Covid come c'è stato fatto a noi e quello che succede magari senza tirare niente discussione con un parrocchiero, un estetista o con un'altra azienda dove ci sono magari 400 persone di dipendenti che lavorano all'interno. Il nostro è stato, ripeto, oltre un danno una beffa perché spendere per un club tutti quei soldi per dispositivi di sicurezza sia per il proprio personale sia per quanto riguarda la formazione del personale sull'utilizzo sia per tutti gli utenti è stata una spesa inutile che ci ha portato comunque a chiudere nuovamente a ottobre. Certo, assolutamente sì e a questo punto la domanda sorge spontanea. Stefano, vi sentite tutelati? Domanda 1, ma domanda nella domanda. Se pensiamo ai ristori, perché così li hanno chiamati, che sono arrivati dal governo, sono sufficienti? Anche perché, peraltro, sufficienti a gestire il periodo presente, però, ripeto, è anche questo un elemento su cui insisto, anche a gestire il futuro perché ancora oggi non sappiamo quando ci sarà la riapertura. Quindi, bel punto interrogativo, sono sufficienti? Allora, anche in questo caso non riesco a capire che cosa si possa intendere per sufficienti, in quanto attualmente, come Presidente di Neumotus, non abbiamo avuto nessuna forma di finanziamento e non c'è stato dallo Stato o attualmente, non c'è stato indennizzato assolutamente neanche un Euro. Questo sia noi come piccolo centro di fitness, ma tutti gli altri club sono nelle stesse condizioni, quindi ci troviamo senza nessun tipo di finanziamento. C'è stato solamente, per quanto riguarda i collaboratori all'interno dei centri fitness, un indennizzo mensile, e questo devo dire la verità, che non ha coperto neanche tutti i lavoratori all'interno delle palestre, di 600 Euro per un mese. Quindi, di per sé, ci troviamo in una situazione in cui le palestre non hanno avuto un solo Euro di risarcimento fino adesso e ci troviamo con più di 250.000 persone a casa che stanno vivendo con 600 Euro. E questo, ti dico la verità, mi rende molto nervoso e non mi fa vedere un buon futuro per tutto il nostro settore. No, stando a questi aspetti no, peraltro già ci stanno parlando di un'eventuale terza ondata, quindi mi immagino, io provo a mettermi nei tuoi panni, cosa che bisognerebbe sempre fare, che ammesso anche che vi dicano che potete riaprire, però la domanda che segue è sì, ma chissà fino a quando? Credo che tu te lo chieda spesso. Sì, mi chiedo, allora, la cosa più importante, questa la dico perché la penso con molta onestà, se dopo il 15 di gennaio non ci danno la possibilità di riaprire, il settore avrà un'implosione notevole. Infatti io ti volevo chiedere, guarda Stefano, perdonami, ti interrompo per questo, guarda, te lo stavo per chiedere io, i due scenari, cioè ti stavo dicendo, ipotizziamo, scenario 1, riaprite, il 15 gennaio, insomma, subito successivamente, oppure non riaprite. Tu mi stai già parlando dello scenario B, non riaprite, tu dici che ci sarà un'implosione totale. Implosione totale, cosa vuol dire? La maggior parte dei centri fitness sarà destinato a non riaprire, perché è non in grado di erogare servizio, anche di abbonamenti o servizi personali all'utenza, perché non riusciamo più a sostenere i costi stessi di gestione. Questo è sicuro per il 90% dei club. Ripeto, rimane fuori probabilmente, ma non ne conosco bene in questo caso i conti economici, rimangono fuori le grosse multinazionali. Nel nostro caso quindi come centri, come club, più di 6.000 club in Italia sono destinati piano piano a spegnersi, anche perché, ripeto, negli inizi non ne sono stati date, agevolazioni non ne sono state date, ci troviamo con spese notevoli e senza nessun tipo di aiuto. Questo aspetto, se non ci permetteranno dal 15 di riaprire con continuità, quindi non serve una riapertura a sigliozzo, serve una riapertura che ci dia una prospettiva di non dover ritornare di nuovo indietro sui nostri pasti, quindi di richiudere. Ci serve una prospettiva più a lungo raggio, perché non riusciremo più a sostenere comunque in nessun caso un'altra chiusura. Il nostro settore è un settore che si basa sul servizio alla persona, quindi non c'è possibilità di un online che possa dare un contributo economico o un guadagno reale. Noi lavoriamo con le persone, quindi lavorando con le persone abbiamo bisogno delle persone, ci devono dare la possibilità di lavorare. Questo aspetto è importante perché se noi non possiamo avere l'erogazione del servizio, non possiamo più mantenere e sostenere per più di 6 milioni di utenti attuali di palestre e centri fitness il servizio erogato. Certo, mi hai risposto anche all'altro scenario, nel senso che se nell'ipotesi che ci auguriamo tutti si riapra il 15 gennaio o subito dopo, però la cosa importante è che non sia singhiozzo, cioè che quantomeno vi sia dato un periodo più lungo. Io non so se potrà essere così perché purtroppo navigliamo tutti a vista, però assolutamente la richiesta è lecita. Anche perché insomma, tu lo dici Stefano, le condizioni di igiene e la sicurezza in generale sono garantite? Esatto, allora c'è stato tra l'altro quell'aspetto dove ci hanno messo nelle condizioni di trovare quello che serviva per non amplificare la diffusione del virus, quindi oltre ai dispositivi, quindi oltre al distanziamento, c'era già stata data la possibilità di metterci in regola e poter erogare il servizio. Tutto questo con la seconda ondata c'è stato bloccato, poi a noi in particolare ancora oggi mi chiedo perché noi sì, come succede in altri settori e in altri settori molto similari a noi no, quindi ci sono degli aspetti che non si capiscono bene, proprio come se non ci fosse la conoscenza di quanto forte il nostro settore, di quanto è stato il danno economico e finanziario del nostro settore e quindi di quanto sarà la perdita effettiva annuale e per l'anno prossimo, quindi per il futuro, di un settore che era in completa salita perché si trovava fino al 2019 in classifica tra i primi sei settori come importanza e crescita economica a livello nazionale e questo è rimasto realmente per noi fortemente sconsolato in questo momento. Abbiamo sentito, va bene, voi ovviamente come tanti altri vi siete organizzati con, lo hai detto tu prima, allenamenti online, ma insomma quello non basta, magari si può tamponare momentaneamente in attesa che tutto riprenda. Peraltro hanno anche, e poi ti saluto Stefano, hanno anche vietato l'allenamento all'aperto, perché si potrebbe anche concepire, quindi ci sono delle scelte anche un po' discutibili, però delle regole di base sono state date e voi potete solo accettarle, però facendovi sentire, mi auguro anche che vi ascoltino presto. Stefano, vuoi aggiungere qualcosa e poi ti saluto? Volevo aggiungere un piccolo particolare che non è stato neanche nominato in altre trasmissioni, non è stato scritto neanche, ma il nostro settore riguarda la prevenzione. Questo che cosa vuol dire? Che se andiamo ad analizzare realmente i casi di decessi per Covid, ci troviamo di fronte a persone che per la maggior parte non avevano una prevenzione reale, seguivano delle cure farmacologiche, ma non avevano una prevenzione reale. Io continuo a sostenere il nostro settore e l'importanza del nostro settore anche sotto questo aspetto, perché muoversi, fare movimento, l'allenamento fortifica il corpo anche contro i virus, tanto che questi aspetti di prevenzione dovrebbero essere amplificati, quindi le palestre dovrebbero lavorare, perché se tu ti alleni e mantieni il corpo in ordine, lo mantieni efficiente, è molto più resistente a un virus e questi aspetti non li dico io da profano o da presidente di un'associazione sportiva, lo dico onestamente e lo dicono la maggior parte dei medici. Quindi ascoltiamo anche questi aspetti, perché se un medico si espone e dice che fare movimento serve anche quello a prevenire situazioni estremi portate dal virus, è chiaro che bisognerebbe agevolare l'apertura e non la chiusura dei centri dove si fa movimenti. Sì, sì, hai fatto bene anche dire quello. Io specifico, so che tu l'hai detto già specifico, perché sai sono argomenti delicati, infatti non si sta parlando di cure, per quelle bisogna fidarsi ai medici. No, 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 lo so, lo so, ma infatti è solo una precisazione che tengo a fare io. Si parla di prevenzione, che è una cosa ben diversa e vale per tutte le patologie. Cioè la prevenzione è importantissima, insomma, ma la sensibilizzazione rispetto a delle patologie e la prevenzione. La cura poi giustamente appunto non spetta né a me né a Stefano Brandolin, ma l'ha detto anche lui, assolutamente ci sono i medici, però chiarimento lo dovevo fare. Stefano, ci riaggiorniamo magari quando ci saranno le idee più chiare. Intanto io posso solo dire a tutti voi di tenere duro, so che non è facile, però insomma altrimenti dobbiamo abbandonare tutto adesso. Non è ancora il momento, credo, quindi speriamo che tante piccole goccioline tipo questa possano aiutare e possano aiutarci come paese. Grazie mille Stefano Brandolin, a presto. Grazie mille Manuela. Grazie, grazie. E grazie anche a tutti voi per averci seguiti. Questa è Le Fonti Pocket News, alla prossima puntata.